carissimi ospiti benvenuti a questa serata qui a palazzo per celebrare il ritorno nel regno di mio figlio il principe azzurro su su ragazze spostiamoci avanti appena arriva il principe deve subito vedervi è la prima impressione quella che conta signori signori un po di attenzione per favore ecco a voi di ritorno da londra azzurro il principe mio figlio applauso permesso c'è una capra nel mio letto e non so che cosa fare il cuscino vuol mangiare le coperte a masticare ma no no non si può non si può non si può c'è una capra nel mio letto e non so che cosa fare lei si è messa al mio pigiama nel mio letto mi reclama ma no 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 non si può lo vino ha un profilo interessante al suo modo è attraente lo vino ha un alico fungente che rimane persistente lo vino ha un pelo puzzolente e nel letto sai si sente si sente si sente si sente lo vino ha un pelo puzzolente lo vino ha un pelo puzzolente si sente si sente si sente si sente si sente oh yeah bravissimo bravo madonna ma hai visto che stacco di coscia? bravo bravo madonna madonna che bello non sapevo che il principe fosse diventato un metallaro e musicista la mia città i ricordati che non si no non si no ma non si no non si no